L'ultima foto di questa via, una delle più belle di Gubbio, via Alessandrini, un'erta ripida dove il passo è scandito da scalini bassi che sale da via 20 Settembre verso il Montingino, l'ha scattata lo scorso weekend la popolare cantante Cristina D'Avena a Gubbio per uno spettacolo, pubblicandola come esempio di bellezza dell'Umbria su Instagram. È solo l'ultima di una lunga serie che documenta l'apprezzamento di turisti e non solo per questa via, che bella di suo da un punto di vista architettonico, lo è ancora di più da quando, ed erano gli anni 80 del secolo scorso, la signora Peppina Ronchi decise di farne un giardino per la città. Ogni anno, ogni stagione, via Alessandrini profumava di fiori piantati e curati con un gusto che più volte ha fatto vincere premi e menzioni nel concorso Colora con i fiori la tua città, ideata e promosso dal Lions Club locale. La signora Peppina oggi non c'è più, ma prosegue la sua opera di abbellimento la figlia Luciana, aiutata dagli abitanti della via Sabrina Monacelli tra questi e continuando a fare di via Alessandrini un'attrazione malgrado poche guide turistiche, conoscano anche solo l'esistenza di questo spazio urbano. Anche oggi, giornata ventosa e rigida, Luciana è a lavoro nella cura dei fiori, i gerani estivi sono ancora belli e colorati, tra poco con il freddo pianterà le viole panzè che per tutto l'inverno daranno colore alle pietre bianche e rosa. Lo fa perché la mamma Peppina glielo ha lasciato in eredità, una sorta di testamento morale a cui non è dato prescindere. Quanto tempo dedicava a questa via? Tutto il giorno, fuori sì, gli aiutava anche io certo, all'ultimo, prima no, faceva da sola. Ma come mai si dedicava così tanto? Perché prima avevamo, su sto viale era pieno di fiori e c'avevamo il pozzo con l'acqua, però quando hanno fatto l'apertura il pozzo l'hanno asciugato per mettere i bidoni del gasolio, invece non ha servito proprio perché è venuto il metano, così il pozzo non c'avevamo più e i fiori li potevamo mettere più senza acqua. E così ha cominciato a mettere sulla strada, dice faccio un giardino all'aperto e l'acqua, adesso io sono andata anche dal sindaco, mi ha detto che mi dà l'acqua, ma l'ho vista. E perché consumo un sacco d'acqua? Ecco, che anno sarà stato quando ha cominciato a fare questo giardino all'aperto? Siamo ritornati qui nel 1984, da lì ha cominciato perché già non c'era più il pozzo. Ecco, piano piano, una piantina, due, tre, poi è venuto tutto questo. La gente, i turisti, tantissimi, si fanno le foto in questa via? Tanti, guardi, io delle volte evito da uscire perché mi prendono anche a me, capito? Tante volte sono vestita un po' così, però tanti, fanno la fila, pensi, fanno la fila. Oggi prosegue lei il lavoro della signora Peppini? Sì, perché essa l'ha lasciato detto, dovevamo proseguire tutto questo. È un po' faticoso però. E beh, è piacevole, piacevole per i complimenti che fanno. Non sa che forse le potrebbero dare anche un premio? So che il Lions ha già premiato la signora Peppina, ma chissà che è la città proprio. Io vorrei solo l'acqua, niente premio, l'acqua. Via Alessandrini tuttavia non è solo un vicolo attentamente curato. Qui si respira lo spirito vero di Gubbio fatto di socialità ed accoglienza. Oggi, come ieri, Luciana apre la sua casa per un caffè a chi passa, rinnovando una tradizione che faceva della signora Peppina una sorta di ambasciatrice di Gubbio. Nella sua vita è stata una persona semplice, con la licenza elementare in tasca, eppure accapace, con la sua umanità, di dialogare con un parterre di turisti di provenienza internazionale. Faceva la foto con loro sulla via agghindata a festa, li invitava a casa, e poi, non è dato sapere in quale lingua comune e reciprocamente comprensibile, raccontava della sua Gubbio. Si faceva lasciare l'indirizzo e inviava loro bigliettini d'auguri a Natale, Pasqua, Capodanno. Molti, moltissimi rispondevano, dal Giappone, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Francia, e oggi una scatola conserva questa commovente corrispondenza. Colpisce la missiva del direttore del teatro La Fenice di Venezia, che scrive a Peppina ringraziandola per la sua accoglienza. Via Alessandrini scriveva, potrebbe benissimo essere via Peppina, tanto rappresentativa è la signora della sua città. E mentre sui social si discute sulla possibilità o meno di dare un premio come comune di Gubbio a questa famiglia, chissà che un giorno possa arrivare anche la dedicazione ufficiale della via. Non fosse altro per restituire idealmente quanto generosamente offerto e per sanare una ferita che resta indelebile. Peppina, infatti, così generosa nell'aprire la propria casa a tutti, morì nel febbraio 2013, all'età di 91 anni, alcuni mesi dopo una brutta caduta causata da un ladro che entrò furtivamente nel suo appartamento. Vista la persona, forse, se le avesse chiesto quello che cercava, io l'avrebbe dato, aprendogli la porta.